In occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù e della giornata di preghiera per la santificazione dei sacerdoti in Cattedrale d'Agrigento, l'Arcivesco Francesco Montenegro ha conferito il Ministero dell'Ettorato e dell'Accolitato agli studenti del quarto e quinto anno del seminario. Hanno ricevuto il Ministero dell'Ettorato, Ignazio Bonsignore della comunità parrocchiale di Agrigento, Giuseppe Dispoto di Cammarata, Antonio Gucciardo di Siculiana, Giochinora Rocca di Campobello di Ricata, Giuseppe Ricata di Aragone e Calogero Saldi di Porto Empedocle. Nella stessa celebrazione hanno ricevuto il Ministero dell'Accolitato i seminaristi Carmelo Burgio di Porto Empedocle, Alessio Caruana di Agrigento, Dario Falzone di Agrigento, Matteo Mantisi e Calogero Putrone, entrambi di Real Monte. Alla celebrazione, dice Don Carmelo Petrone, direttore dell'Amico del Popolo, hanno preso parte le famiglie dei seminaristi, oltre che i parroci, molti presbiteri amici e tanti fedeli che hanno gremito la cattedrale provenienti dalle comunità di origine dei seminaristi. Nell'Omeria il Cardinale Montenegro ha detto, la Chiesa ci rassicura che l'amore è possibile, basta permettere all'amore che fuoriesce dal cuore trafitto di Cristo di riversarsi nel nostro cuore. Il costato aperto è la porta che fa entrare nel mistero stesso del verbo incarnato, senza quella porta non ci è concesso di penetrare in Dio. Diceva un maestro di spirito, desidero avvicinarmi a questa santa e sacra ferita del suo costato, a questa porta dell'arca, per entrare con tutto me stesso, fin nel cuore stesso di Gesù. Nel santo dei santi, nell'arca dell'alleanza. In questo giorno in cui la Chiesa parla di amore, ha proseguito il Cardinale Montenegro, è significativo che voi, Ignazio, Giuseppe, Antonio, Giochino, Giuseppe e Calogero, siete chiamati allettorato a offrire, cioè un amorevole servizio alla comunità ecclesiale, proclamando ma col cuore la parola di Dio, cercando prima di scoprirne la ricchezza e il significato nascosto delle pieghe della parola umane. Per farlo dovete vivere una radicale e profonda amicizia col Signore e attraversare la porta del suo cuore e petturfarvi nel suo amore. Non commettete mai l'errore, ha esortato i seminaristi, di pensare di conoscere Dio a memoria, non basta una vita per imparare il cuore di Dio. Poi rivolgendosi a Carmelo, Alessio, Dario, Matteo e Calogero, istituiti accoliti, cioè i doni, a far scoprire l'intimo legame che esiste tra l'Eucaristia e la carità, ha detto, aiuterete i vostri fratelli a scoprire il gusto della partecipazione alla liturgia se voi per primi vivete il mistero che servite. Per questo privilegiate la meditazione della parola di Dio e dei testi liturgici, fate ogni giorno una ricca esperienza della preghiera liturgica e poi trasformate la preghiera assieme ai gesti che compirete all'altare in testimonianza di carità. Necessariamente quanto compierete in chiesa dovrà prolungarsi dopo la celebrazione per diventare sollecitudine verso i lontani, i poveri, i malati e quanti sono in difficoltà o nel bisogno. Fatelo voi per primi e poi aiutate gli altri, i ministranti, i cantori, i lettori, i fedeli, a scoprire la bellezza e la preziosità di ciò che riguarda Dio. Scegliete, ha proseguito l'arcivescovo, come regola del vostro servizio, anzi della vostra vita, quella di amare e di amore sincero la gente, soprattutto i poveri e gli infermi. Preoccupatevi di attuare gioiosamente il comandamento nuovo che Gesù diede agli apostoli, amatevi l'un l'altro come io ho amato voi. La vostra vita, insomma, sia fatta di parola di Dio e di Eucaristia e rivolgendosi a tutti a concluso dicendo se ci lasciamo avvolgere da questa storia d'amore comprenderemo il senso del cuore di Cristo.